bella a tutti ancora ragazzi su bus simulator 21 next stop oggi video sui tram allora spero che avete visto tutti i miei shiorts siete qui anche per sapere qualcosa di più sui tram da xbox perché sono da xbox serie x vabbè next gen chiamatela come volete allora praticamente bisogna andare qua dovete acquistare il dlc ovviamente gli alzi dlc lo chiamo dlc brutalmente dlc allora praticamente dobbiamo andare qua sul questa colonnina cliccare a come si fa allora questo sono deposito dei tram io li ho fatti così raga li ho fatti tipo ulti color questo graffito qui è una pubblicità in verità adesso vi faccio vedere personalizza il mio aspetto io ho messo rivestimenti ragazzi nei miei shorts ci sono anche le decalcomanie che avete in più di halloween di pasqua vedete queste sono natalizie vedete che belle vabbè quella è la pubblicità vedete tutta roba di natale lasciate stare i graffiti halloween vedete ecco le zucche ci sono anche sempre halloween c'è dovrebbe essere anche pasqua no questo il pride quindi sono questi qua le pubblicità invece sono queste io ho scelto questa perché mi piace altrimenti questa qua per i tram ma è un po' troppo invasiva diciamo poi c'è questa che non sarebbe male neanche questa perché c'è il simbolo del tram quella poi ci sono le classiche nostre gli interni ci sono quelli del pacchetto che vi ho fatto vedere io ho scelto questa ma vi faccio vedere brevemente se non va bene dovrete vedere tipo da qua ok ci sono queste allora ci sono quelle di i halloween di fantasmini le zucche altre zucche questi sono i pipistrelli io ho scelto queste qua perché sono colorate e con lo sfondo nero che mi piace se no ci sono queste quattro colorate queste di pasqua queste altre di pasqua questa è di natale queste x a caso questo sempre di natale perché sempre natale questo è mary christmas mary christmas mary christmas penso che siano di natale comunque io ho scelto queste perché mi piacevano di più niente di che allora vi faccio vedere se personalizza allora andiamo a scioparci un altro tram e allora con ci sono del tram ci sono due tipi di tram il t 0 2 al t 0 1 che differenza c'è praticamente niente solo più posti è più lungo questo qua il t 0 1 costa 300 mila più i soldi ne ho e prendo questo ma praticamente è niente che ha solo porta e porta solo posti in più tutto lì allora preso adesso se potete vedere ha già scalato i soldi quindi tram è già mio lui vi mette in viaggio libero allora come fare a personalizzare o andate nel garage è andata nel garage e cambia veicolo e andate su i tram teoria ecco sass eccoli qua ne ho cinque vedete eccolo qua il quinto questo qua è l'ultimo che ho preso poi potete personalizzarlo oppure se siete in viaggio libero il tram è già vostro capito non è come il bus che vi fa fare il giro di prova e poi uscendo dal garage vi fa acquistare questo è già vostro praticamente premete il tasto tradizionale sinistro premete il freno a mano e lui vi porta direttamente nel garage allora questo qua lo facciamo leggermente diverso dai il mio aspetto dei rivestimenti commettiamo facciamolo vabbè che mi piacciono sempre questo non è male perchè coi graffitti magari no no aspettate 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 facciamolo tipo una roba ecco una roba soft dragono è tipo posti oppure ciò che fa schifo però così no così fa super schifo no così no no deve essere una roba leggerissima dai c'era quello eccolo qua questo qua con le scritte no no facciamolo quello lì questo qua grigio così perchè ci voglio mettere quella pubblicità la bella quella pubblicità bella questa qua questa mi piaceva a me perchè vedete tipo le porte sembrano come dei grattacieli capito i palazzi cioè mi piace mi piace mi piace eh interni raga interni non mettiamo interni di christmas mettiamo questi no mettiamo sempre quelli di strani però eh no i fantasmini no vabbè che le caramelle non è caramelle se sono caramelle non so che cacchio sono vabbè ci per me ci stanno questi dai via fatto ehm applica si a questo veicolo accetta fatto quindi ce l'abbiamo raga il nostro bel tram adesso non dovete nient'altro aspettate che io spengo le luci solo le spengo le luci ehm allora modalità visuale regola la posizione del sedile e che sta roba attiva il visuale in prima ah ok il visuale è già specchietto e lì ah c'è lo specchietto ah qua eh non l'avevo visto ok ragazzi abbiamo una roba anche per voi allora no le luci le luci tasto sinistro luci non me ne frega le luci della biglietteria le luci della cabina perché la ho là allora raga le frecce vanno sempre con i dorsali quindi sinistra e destra e poi accelerate ah si devo tirar via il freno a mano buon tonno con X aprite le porte vedete qua sceglie lui il lato giusto ma comunque sempre a destra chiudete con X l'abbassamento qua ovviamente non serve e con RT accelerate con LT frenate comunque comunque se prendete le curve a velocità troppo elevata vi praticamente vi eh vi dà una penalità adesso vi faccio vedere prendo sta curva bomba vedete ice e sta andando troppo veloce in curva adesso raga come come cambiare direzione al tram ovviamente col premendo l'analogico di destra si attiva il clacson sarebbe la la campana no allora vi faccio vedere come cambiare direzione adesso lui praticamente va dove vuole dove è preimpostato no va in preimpostato vi faccio vedere come cambiare direzione qua le curve questo non corre tanto non so se arriva a 50 non ho mai provato a tirarlo perché c'è sempre traffico dovrei disabilitare il traffico e riuscire magari a portarvelo sì allora aspettiamo che arrivi uno svincolo qua andiamo avanti noi ci facciamo un bel giro tanto vi faccio vedere quello deve essere il pezzo nuovo della mappa non ho ben capito sì c'è il ponte la linea traviaria è molto lunga e molto estesa è bella ho 32 mi sa che più di 32 non fa quindi multa non ne prenderete 33 no non arriverà mai a 50 ecco raga io non freno un cacchio comunque vedete giusto per giusto per allora no sono andato troppo avanti ah qua c'è il binario apposta per andare di là nell'isola nuova potevamo andarci vabbè proviamo a farci il giro vediamo se riusciamo ad andarci insieme allora dicevo se per caso vi trovate in un incrocio dovete semplicemente muovere l'analogico di sinistra e vi fa scegliere di andare a destra sinistra o dritto e dove c'è sono tre scelte altrimenti destra o sinistra oppure ho solo sinistra dritto ho solo destra ecco vedete tipo qui io voglio andare a destra no vado a sinistra ritorniamo al centro vedete attenzione adesso vado più piano al prossimo incrocio vi faccio vedere eccolo qua il prossimo incrocio quando diventa verde ecco qua vedete che è verde poi potete scegliere poi potete scegliere vi faccio vedere con l'analogico sinistra destra sinistra destra sinistra destra quando ovviamente siete troppo vicini quando scompare è boh sto camion quando scompare ecco non potete più cambiare ovviamente ma non potete nemmeno andare indietro capito quindi siete obbligati a ricrearvi un giro a ricrearvi un giro dove cosa vediamo se riusciamo a farci il ponte perché mi sarebbe molto piaciuto portarvi al ponte è troppo veloce in curva vedete adesso qua devo andare a sinistra ma ok c'è solo la sinistra quindi ovviamente c'è la freccia se volete 23 ok vediamo se mi fa andare perché forse quel pezzo di mappa non c'è forse non si può andare sì e invece sì col tram posso ah di là non posso ok che bello raga andiamo nel ponte del treno ciuff ciuff va che bello qua non c'è traffico si può andare a bomba ragazzi agli mortacci mi dimentico ogni volta va che bello che bello raga è bellissimo troppo bello eh sono le 18 arriviamo nel quartiere nuovo dal ponte non c'è nessuno 33 all'ora fa ragazzi non di più quindi molte voi non ne prenderete mai perché più di 50 non ci andate ok vedo già una deviazione lì possiamo andare andiamo a destra dai così prendiamo una bella vedete stiamo andando troppo veloci troppo veloci in curva non va bene non va bene comunque vi faccio vedere vabbè tanto lì si ferma piano piano non fatelo a casa ma non me lo fa fare ok vi faccio vedere com'è air tram vedete è bello lungo porta un botto di persone qua c'è anche il posto c'è tutto la rampa quello che ci deve fare potete premere A oh ma è che si può aprire solo la prima porta si però un door perché questa è diciamo la vostra porta vedete e questo è il nostro bel tram quindi raga ci torniamo a chiudere prendiamo controllo il resto dorsale potete tirare fuori la rampa mettere vabbè bisogna aprire le porte penso mettiamo la rampa non c'è forse perché non siamo in una fermata funzioni porta vedete qua si apre si chiude freno a mano niente di che funzioni motore impegni accendi niente di che raga controllo velocità questo controllo velocità ovviamente e tergicristalli è tutto lì finestre degli avvisi che non è che vuole dire questo è quanto molto semplice molto semplice da utilizzare quindi spero che questo video vi sia piaciuto come sempre commentate iscrivetevi ragazzi ci vediamo in un prossimo video barra live ciao ragazzi ciao ciao Grazie per la visione!